Eccoci con Giorgia Bocola, siamo qua con lei per fare una chiacchierata e per presentare la prossima partita della Feba Cinitana Marche contro Selargius. Allora Giorgia, sabato c'è questa partita contro Selargius che è comunque un'ottima squadra con alcune giocatrici che si conoscono bene come Francesca Rosellini per esempio. Sarà un bel test, la Feba ci arriva dopo comunque la sconfitta di Vigarano che è stata comunque una partita molto tirata contro un ottimo avversario. Sì, come hai detto tu nell'ultima partita abbiamo dimostrato secondo me quello che la nostra squadra può dare nonostante dall'altra parte avessimo una compagine molto forte soprattutto sulla carta ma in fin dei conti abbiamo dimostrato che possiamo tenere di testa peccato per il risultato finale. E sabato appunto ospitiamo Selargius, è una squadra in cui abbiamo ben due ex giocatrici ovvero Rosellini e Ceccarelli, sorvegliate speciali e inoltre anche le due lunghe che nell'ultima partita sono radici da una doppia a doppia ciascuno. Quindi il nostro lavoro sarà principalmente limitare le lunghe e giustamente tenere un occhio sia su Rosellini che sui Ceccarelli. Durante questa settimana sicuramente cercheremo di mettere a punto quello che magari Vigarano non ci è riuscito bene, cercando ovviamente di integrare nuove cose per limitare Selargius. E quindi ci vediamo sabato, vi aspettiamo sabato al palazzetto. Esatto, ricordiamo che si gioca sabato alle 18, quindi col palazzo di Civitano Alta, grazie Giorgia, poi ci rivediamo in campo. A sabato.